Le forze non sono capaci soltanto di modificare la quantità di moto di un punto materiale in un dato sistema di riferimento inerziale, hanno anche altre facoltà, sono capaci di fare altre cose sui punti che ne subiscono l'azione. Oggi, usando una terminologia non ufficiale, ma così per iniziare a parlare della questione, volevo raccontarvi appunto di questo nuovo tipo di potere che chiamo, ripeto, impropriamente rotazionale di una forza e che ne caratterizza altri aspetti sia staticamente intesi che dinamicamente. Quindi in ordine inizierò a parlarvi del potere rotazionale delle forze nella specie di quello che si chiamerà il momento di una forza rispetto a un possibile perno, asse, polo, anche come si dice, di rotazione. Questa grandezza la inquadreremo da un punto di vista di principio e poi l'applicheremo staticamente e poi vedremo anche da un punto di vista in uno scenario dinamico come questa nuova grandezza funzioni. Allora parliamo come prima idea del momento di una forza. In meccanica esistono in generale, più in generale che non in questa situazione, momenti di una grandezza. Noi adesso ci interessiamo al caso in cui una forza è applicata in un punto, poi vedremo che questa cosa potrà essere relativamente rilasciata, ma per adesso applichiamola a un punto che non coincide, quindi che è una certa distanza da un possibile polo, perno o asse di rotazione. Quindi la nostra configurazione qual è? C'è un polo, lo chiamiamo così perché è il termine che deriva dagli studi di meccanica razionale, insomma è un punto fisso in questo momento. E c'è un punto di applicazione di una forza F, che è un disegno di arbitraria lunghezza, intensità e direzione. A prescindere dalle formalità e dai formalismi, spero che vi sia chiaro che una forza così disegnata ha la facoltà di far ruotare il punto materiale Pi, al quale essa è applicata, perché si trova questo punto materiale a una certa distanza dal perno di rotazione e la forza ha una componente che è trasversale al segmento che congiunge il punto materiale con l'asse o il polo o il perno di rotazione. Allora, in altre parole, se io applico una forza direttamente al polo, questa forza non è in grado di far ruotare alcunché. Al massimo potrà strattonare, come ben sappiamo, il perno, ma non può far ruotare nulla attorno ad esso. E' altresì vero che se io prendo una forza e la applico parallelamente al segmento che congiunge il punto di applicazione al perno di rotazione, al polo, ancora questa forza sarà in grado di strattonare, di trascinare il punto materiale, ma non di farlo ruotare. Perché? Perché sì, perché abbiamo questa idea operativa di forza che deve avere una qualche componente trasversalmente applicata e a una distanza non nulla tra il punto di applicazione e il perno. Quindi deve avere un'orientazione capace di far ruotare e un punto di applicazione che non sia lo stesso del genere coincidente con il polo. Allora, questa era una novietà tutta sommato, rendiamola meno ovvia facendo una serie di precisazioni, segnando una nomenclatura a questo schema in cui ho una forza che è potenzialmente in grado di far ruotare. E cosa facciamo? Chiamiamo R il vettore che congiunge il polo con il punto di applicazione, F è la forza, il punto di applicazione è P, il polo è O e poi individuiamo il tratto di retta, cioè la direzione, si chiamerà anche linea di azione della forza F, quindi la forza F applicata su questa linea tratteggiata. Poi proseguiamo il raggio vettore R nella sua estensione e individuiamo un angolo teta che è ovviamente l'angolo che individua, il più piccolo angolo individuato fra il raggio vettore R e la forza F. Infine nella nostra costruzione geometrica disegniamo questo segmentino che si affaccia con l'angolo teta rispetto a R ancora, questi sono angoli, come si chiamano, opposti al vertice, e chiamiamo B, con il simbolo B, questo segmento, con ciò intendendo il cosiddetto braccio della forza, braccio di F. Quindi braccio di F non è altro che la distanza fra la retta d'azione, la linea d'azione della forza e il perno, il polo di rotazione. Possiamo anche, con poco sforzo, già che ci siamo lo facciamo, disegnare un vettore che rappresenta la componente o il componente, se è un vettore della forza F che risulta perpendicolare al raggio vettore R che individua, a sua volta, come abbiamo già detto ormai un paio di volte, il punto d'applicazione. E chiameremo F perpendicolare questo vettore con ovvi intenti di notazione. Ora, a questo punto definiamo il potere rotazionale, e fra un po' questo termine lo dimenticheremo, ma per ora insistiamo ancora a chiamarlo così, il potere rotazionale della forza riferita al polo O come suo momento rispetto a O. E lo denotiamo in questo modo, chiamiamo tau, lettera greca minuscola, il modulo o l'intensità del momento della forza rispetto, riferito, riportato al polo O, quindi tau con O, il prodotto del braccio della forza, stiamo parlando dei moduli, per la lunghezza della forza. Siccome si può anche scrivere che R da questo disegnino è molto chiaro, spero, è uguale, o meglio diciamo che B è uguale a R per il seno di teta, posso scrivere al posto di B, R sen teta, quindi RF sen teta, e lo possiamo anche scrivere questo come R, osservare che teta è ancora protagonista nel disegno in questo punto, R per F perpendicolare. E queste sono tutte grandezze in modulo. Allora, essenzialmente abbiamo scritto in tre modi questa idea, questa definizione di momento rispetto a O della forza F che giace sulla retta tratteggiata gialla, ovvero rispetto, per esempio, il punto, il polo P. Cosa ci suggerisce questa scrittura? Ma come ho già avuto modo di farvi notare in un altro contesto, siccome il tau O qui è espresso come il prodotto del modulo del raggio vettore R per il modulo del vettore F, per il seno del più piccolo angolo compreso fra questi due vettori, possiamo inventarci una definizione vettoriale per il momento tau, quindi con la freccia rispetto al polo O, dato dal prodotto esterno di R per F, dove questi sono ovviamente ora dei vettori. è una definizione che è compatibile con la scrittura dei moduli scritti sopra. Quella scrittura con i moduli scritti sopra, se guardiamo per esempio la B per F, è assolutamente sensata nell'ottica di quanto stavamo discutendo prima osservando queste situazioni in cui la forza strattona ma non è in grado di far ruotare. Perché qui c'è scritto che la forza, perché abbia momento che vogliamo essere a definizione del potere rotazionale, deve avere un braccio non nullo, oltre a essere non nulla la forza ovviamente, e per avere un braccio non nullo deve esserci una componente non nulla di forza perpendicolare, cioè deve esserci un angolo teta non nullo. Inoltre, questa scrittura vettoriale assegna anche una, tramite l'orientazione del vettore tau che stiamo costruendo, assegna anche un'orientazione, dal punto di vista del senso nel quale la forza può far ruotare attorno al perno O. Cioè, compatibilmente con la scrittura che abbiamo imparato a fare della regola della vita o della mano destra, vedete che quando io applico il prodotto esterno di R per F, ottengo un vettore perpendicolare al piano che contiene i due vettori RF e che ha come orientazione di questa direzione quello assegnato dal verso di avanzamento del vite o del capo a tappi. Quindi nel disegno che qui abbiamo, c'è una vite, virtuale o reale che sia, questo è irrilevante, che entra nel foglio, entra nella lavagna, che è esattamente quello che mi aspetto che faccia quando una vite viene accompagnata da una forza che ha almeno la componente F perpendicolare così orientata rispetto al punto P. Abbiamo quindi una definizione vettoriale che, essendo tale, può essere reinventata in altri modi, ma questa ha sicuramente tutta una serie di vantaggi e che poi scopriremo è una invenzione assolutamente importante perché i vantaggi alle quali essa conduce sono veramente tanti. Allora, due o tre commenti al volo, molto semplicemente. Innanzitutto, questo momento di forza ha delle dimensioni e quindi delle unità di misura il momento di una forza espresso come il prodotto delle dimensioni di una lunghezza del braccio, per esempio, per quelle di una forza che è una massa per una accelerazione. Quindi le dimensioni sono m, l2, t alla meno 2 e le unità di misura nel sistema internazionale comunque non hanno un nome particolare e si limitano a essere espresse in newton per metro. Un momento di forza nel sistema internazionale si misura in questo modo newton per metro. Prima considerazione. La seconda considerazione che si può fare, già anticipata, ma adesso la formalizziamo, si vede che la forza F determina in maniera univoca e non ambigua il momento che si esercita rispetto al polo O a prescindere dal suo punto d'applicazione purché rimanga sulla sua retta d'azione, sulla sua linea di appartenenza. Il suo momento non cambia. Questo potrebbe sembrare all'inizio come dire poco intuitivo. Ci tengo che invece ritorni perfettamente. Qui abbiamo il polo O, abbiamo la retta d'azione della forza F e la forza F, per esempio, è qui. È una freccia di una certa lunghezza. A parte che abbiamo già definito il suo modulo come il prodotto di B per F, tutta intera F, e siccome B è questo, chiaramente, se io mi sposto in un altro punto di applicazione, per esempio, quassù, con la stessa F, uno potrebbe essere ingannato dal fatto che adesso R più lungo F è lo stesso e quindi perché mai il momento di questa nuova configurazione dovrebbe essere uguale a quella di prima. È vero che R si è allungato, però è anche diminuito il seno dell'angolo. R si è allungato esattamente di quanto è diminuito il seno dell'angolo, se guardate questa semplice geometria, ovvero, ancora più direttamente, per dire la stessa cosa, senza girarci troppo attorno, in qualsiasi posizione voi decidiate di appoggiare la forza purché resti su questa retta d'azione, il suo braccio continua a essere. Rigorosamente B lo stesso e quindi il modulo e il momento non cambia ma nemmeno la sua orientazione. Visto in un riferimento visivo come quello di questa lavagna, il potere relazionale vettoriale tau è esprimibile come un vettore che avanza entrando nella lavagna come se fosse una vite che ruota in senso orario. Un'altra considerazione che qui è veramente importante è che se non specifico ora però il polo O non posso specificare il momento della forza, cioè la frase il momento di una forza ha contenuto zero essenzialmente il contenuto l'acquista quando io segno la specifica irrinunciabile rispetto a questo polo oppure a quest'altro. F di per sé non ha momento se non quando io ne assegno il raggio vettore che collega il polo con il punto d'applicazione della forza o comunque ne assegno il braccio e l'intensità. Per calcolare il momento di una forza ci si avvale delle regole già esplorate per il calcolo di un prodotto esterno. Cioè possiamo usare se li abbiamo i moduli dei vettori coinvolti quindi la lunghezza di R e la lunghezza di F e il seno dell'angolo più piccolo compreso immaginando poi che io cammini secondo questo più piccolo questo angolo minore da R verso F nel disegno oppure anche direttamente posso considerare le componenti cartesiane se mi sono date del problema. quindi se io ho il raggio vettore punto applicazione che individua punto applicazione rispetto al polo che è 1 2 0 metri sappiamo che sono unità del sistema internazionale e abbiamo una forza F che ha come componenti meno 3 1 0 newton spero che la notazione sia chiara il tau di questa forza e di questo R rispetto a questo R che mi individua dove ho applicato la forza rispetto al polo quindi io ho un disegno neanche troppo nascosto insomma che posso esplicitare qui ho x e y ho il punto di coordinate 1 2 quindi qui ho il raggio vettore R e immagino la forza applicata in questo punto di intensità meno 3 lungo x e 1 lungo y quindi sarà un vettore che nelle sue unità di misura adesso qui arbitrariamente uso le 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 stesse del degli assi x y ma assolutamente sono indipendenti quindi diciamo che ho meno 3 tacche lungo la direzione x a partire dal punto di applicazione e un'attacca in direzione y quindi ho una forza f che è fatta così il momento di questa configurazione come si calcola tau o è il determinante della matrice 3 per 3 i j k 1 2 0 meno 3 1 0 che ho già imparato che mi darà qualcosa solo lungo l'asse z k e questo qualcosa è 1 per 1 1 meno 2 per 3 6 quindi 1 più 6 7 k unità di misura attenzione newton per metro o metri per newton il tau è una freccia che si arrampica di 7 unità di newton per metro nella direzione dell'asse z e ora che vedo ho scritto una cosa sbagliata il disegno della freccia rossa è sbagliato preferisco non rifare questa lezione mi punisco e l'aggiusto al volo perché non mi tornava il disegno della freccia ho disegnato invece che il vettore f meno 3 1 ho disegnato il vettore 1 meno 3 allora lungo l'asse x era meno 3 quindi dovevo andare da questa chiedo scusa e lungo l'asse y dovevo andare più 1 da questa questo è il freccia f corretta corretta quella che corrisponde al micro esercizio che sono riuscito a sbagliare quindi r esterno f è una vite che questa forza sarà potenzialmente potrebbe essere potenzialmente in grado di far ruotare insomma vista dall'altro in senso anti-orario e questo diciamo è l'avvio del discorso per quello che riguarda la definizione operativa di un oggetto che si chiama momento di una forza ha un significato statico qui non abbiamo dichiarato nessun effetto diciamo dinamico di questa grandezza è una cosa che ci riserviamo di fare fra un attimo prima però volevo soffermarmi proprio come rapida applicazione su una situazione che evidenzia l'utilizzo del momento di una forza o dei momenti di più forza in uno studio appunto di natura statica e lo faccio con una semplice applicazione prendiamo un piano orizzontale e su questo piano pensate di appoggiare dei cunei dei vincoli di qualche tipo e a sua volta su questi vincoli appoggiate un'asta una trave una passerella e supponete che questa questa asta abbia un peso collocato chissà dove chissà dove lo invento io dico che da qualche parte qui c'è un peso P che è a distanza di uno dal vincolo numero uno di sinistra e a distanza di due dal vincolo numero due di destra questa struttura è in equilibrio statico perché qualcosa sia in equilibrio abbiamo dichiarato che su di esso non devono agire forze non equilibrate ovvero il risultante delle forze deve essere pari a zero quali sono le forze che agiscono su quest'asta beh il peso l'abbiamo dichiarato poi però per evitare che appunto questa struttura libra altrimenti di sprofondare accelerata verso il basso dal suo stesso peso deve essere trattenuta dal pavimento in questo caso dei due cunei dei due perni che la sostengono quindi mi immagino che in corrispondenza di tali perni che costituiscono i vincoli si sviluppino delle forze che io indico con i simboli N1 N2 e con N sottintendo o anzi intendo parlare di reazioni vincolari di tipo normale cioè perpendicolare al piano dell'asticella della passerella queste sono le forze che agiscono sulla passerella dovute ai vincoli ai cunei di supporto ovviamente i cunei di supporto sono spinti verso il basso dalla passerella per azione reazione terzo principio essi esercitano la forza uguale a contraria nei punti di contatto di appoggio e sono normali perché se io spingo lateralmente questa passerella non ci sono attriti questa è la mia ipotesi è tutto liscio orizzontalmente e quindi l'uniche possibilità che sono nei punti di contatto è che si sviluppino le forze perpendicolarmente dunque se ci chiediamo come possa essere realizzato l'equilibrio in questo sistema sicuramente non vogliamo che esso trasli e quindi scriveremo come condizione di equilibrio che la somma scriviamola in maniera formita di tutte sommatorie di tutte le forze che agiscono su questo oggetto deve dare un vettore nullo questa è una condizione di equilibrio che ci assicura che il punto materiale che qui sta impropriamente indegnamente rappresentando la nostra asticella dovremo vedere poi se è davvero un'asticella che cosa succede ma diciamo che è un punto materiale sospeso fra questi due perni con un'asticella altrimenti priva di massa ecco quello che succede è che abbiamo una condizione di equilibrio statico ovvero tale che il punto non può accelerare la somma delle forze deve essere uguale a zero quindi la somma di n1 più n2 più p deve fare il vettore nullo allora questa equazione è un'equazione che posso devo tranquillamente proiettare nell'unica direzione come dire traslazionalmente interessante del problema che chiamo y per esempio un asse verso il basso oppure verso l'alto se la metto verso il basso questa direzione orientata l'equazione statica la condizione di equilibrio è che meno n1 n1 verso il basso meno n2 n2 verso il basso più p deve fare zero il numero zero cioè vuol dire che io so che all'equilibrio la somma delle due forze intensità verso l'alto deve essere uguale alla forza intensità verso il basso ora però se si chiede ma quanto è n1 e quanto è n2 ci guardiamo attorno e siamo un po' disperati perché non abbiamo idea di dove andare a recuperare questa informazione è chiaramente necessaria per definire in maniera non ambigua la condizione di equilibrio equilibrio che abbiamo però determinato solo da un punto di vista come vi dicevo poco fa traslazionale cioè non abbiamo tenuto di conto il fatto che queste forze sono potenzialmente e poi realmente in determinate condizioni in grado se sguinzagliato opportunamente di far ruotare anche la massa il sistema quindi attorno a un dato polo cioè il fatto che il risultante delle forze sia uguale a zero è una condizione necessaria all'equilibrio cioè se c'è equilibrio il risultante delle forze è uguale a zero ma non è sufficiente ci vuole qualcos'altro per assicurarci che il sistema lasciato fermo rimanga e questa condizione in più sulla quale avremo occasione di tornare in qualche esercizio situazione più complicata quando studieremo dei sistemi rigidi di corpi ha a che fare proprio col potere rotazionale supponete per esempio di fissare un polo O qui dove c'è uno dei punti di contatto quello è il punto di contatto O1 ora si vede spero che sia chiaro che rispetto a questo polo O beh N1 non può far certo ruotare perché è appoggiata al polo O e oltretutto è anche ad essa anche se l'allontanassi dal polo sarebbe parallela al punto di applicazione al segmento che congiunge il punto di applicazione eventuale col polo invece sia il peso P che la reazione normale N2 sono potenzialmente in grado di far ruotare il sistema attorno O cosa che è compatibile la loro efficacia rotazionale con l'equilibrio statico perché questo è lasciato inviolato da questa relazione noi però vogliamo che nemmeno le forze si azzardino a pensare di far ruotare il sistema attorno a O o a qualunque altro polo per quello che può valere infatti vi invito a fare il ragionamento che sto per fare adesso prendendo altri poli e vedendo se succede qualcosa di differente vi assicuro che no non può accadere nulla di differente allora che cosa facciamo adesso consideriamo il calcolo esplicito dei momenti delle forze rispetto al polo O saranno dei vettori però guardate il momento della forza P rispetto al polo è il prodotto esterno di questo segmento vettorializzato di 1 per P e questo prodotto esterno è massimo perché questo segmento di 1 è perpendicolare a P e lo stesso si può dire del momento esercitato da N2 rispetto a O perché N2 è perpendicolare a questo braccio perché è proprio il braccio di lunghezza di 1 più di 2 in pratica posso scrivere quindi che il modulo tau rispetto O diciamo arbitrariamente che questo è un verso positivo del potere relazionale cioè diciamo che il momento è entrante e è positivo o uscente e negativo potreste ribaltare tanto metterò uguale a 0 questo risultato allora diciamo che il momento della forza P è il prodotto di D1 per P e poi abbiamo il momento di N2 N2 della forza N2 è negativa come proiezione su questo arco che ho disegnato da almeno più di verde se appunto tengo conto del fatto che N2 tende a far ruotare in verso anti-orario il sistema attorno O quindi il suo momento sarà meno di 1 più di 2 per N2 ma io non voglio che il sistema possa mettersi a ruotare che queste forze riescano a far ruotare alcunché quindi chiedo che questa cosa sia uguale a 0 altra condizione necessaria quindi ma non sufficiente per che il sistema sia in equilibrio la condizione necessaria e sufficiente è la simultanea il simultaneo annullarsi sia del risultante delle forze che del momento risultante cioè la somma delle forze deve far 0 come pure la somma dei momenti rispetto a un polo quale qualunque volete provare a cambiarlo ve l'ho già detto provate vedete se cambia qualcosa da questa relazione scopriamo per esempio che N2 deve essere uguale a D1 diviso D1 più D2 per P dimensionalmente ci siamo è una forza P la conosciamo è la forza peso dell'oggetto della sua massa per G e da questa altra relazione otteniamo subito che N1 deve essere uguale a P meno N2 ma siccome N2 l'abbiamo appena espresso viene D1 più D2 meno D1 su D1 più D2 e quindi viene D2 diviso D1 più D2 P adesso il problema è risolto conosciamo le due reazioni avendo bilanciato sia il risultante delle forze sia il momento risultante di queste forze cioè la somma dei momenti delle forze rispetto a un polo che insisto fondamentale segnarlo ma è arbitrario e notate che le due forze N1 e N2 sono direttamente proporzionali agli opposti dei segmenti che congiungono il centro del sistema dove è applicato il peso insomma e tanto più il peso si sposta per esempio verso sinistra quindi al limite quando avete un singolo punto appoggiato sul vincolo di sinistra il vincolo di destra non fa più niente infatti risulterebbe N2 uguale a 0 e viceversa se lo sposto a destra se il punto materiale è tutto sul vincolo 2 se io metto D1 uguale a D2 cioè il punto materiale appoggiato su questa trave a metà il risultato è simmetrico quindi N2 è uguale a N1 questo esercizio ve lo lascio con una variante come dire strana se volete pensarci bene ripensate quindi a questo stesso esercizio dove ho questa trave con un punto che la pesantisce da qualche parte col suo peso e la appoggiate adesso su tre supporti ok bene vi chiedo di calcolare in questo caso cosa succede ai vincoli sui tre supporti dovuti all'equilibrio così come l'abbiamo definito fino adesso abbiamo finito no adesso dobbiamo cercare di capire come raccontare una dinamica dell'effetto delle forze su un punto materiale per quello che riguarda il momento allora l'argomento si potrebbe intitolare lo intitolo volentieri e gli do questo titolo momento angolare di una massa di un punto materiale momento angolare è il termine inglese tradotto in italiano angular momentum nei testi italiani doc il momento angolare si chiama invece momento della quantità di moto adesso lo scoprirete subito perché questo è un buon nome tutto sommato anche se è molto più lungo che momento angolare cosa si fa si prende un sistema di riferimento inerziale è una costruzione molto semplice questa è molto importante va capita fino in fondo un riferimento inerziale in esso c'è un punto materiale che va a spasso una massa quindi puntiforme P che va a spasso e che ha una sua quantità di moto V per M che è tangente della traiettoria P piccolo uguale M V dopodiché consideriamo anche un qualunque polo Q dove vi piace nel vostro foglio e quindi introducete anche un vettore QP allora definiamo il momento angolare o momento angolare o momento della quantità di moto relativo al polo Q e lo indichiamo con il simbolo L maiuscolo grande vettoriale quindi è un vettore con il sottoscritto Q quindi relativo al polo Q la grandezza vettoriale data dal prodotto esterno di quel raggio vettore QP per la quantità di moto del del punto materiale e questa è la definizione centralissima della meccanica dei punti materiali la ridico il momento angolare riferito a un polo Q il momento angolare e basta non ha nessun senso il momento angolare riferito al polo Q di un punto materiale con quantità di moto P piccolo è il prodotto esterno del raggio di posizionamento del punto rispetto al polo per la sua quantità di moto per il P piccolo si trova scritto in modo del tutto pasticciato o vorrei dire erroneo che un punto ha una massa che ha una massa ha un momento angolare e si sta ruotando è una condizione sufficiente cioè si sta ruotando a momento angolare ma non è necessaria può benissimo esserci un punto che non ruotando ha ciò nonostante momento angolare tutto dipende da dove è il polo perché se non specifico dove è il polo non si capisce niente come ho già detto non vuol dire niente vi faccio vedere infatti che supponete che ci sia il polo Q messo qui il punto è qui quindi questo è Q e questo è P e la sua quantità di moto è questa questo è evidentemente un caso in cui L rispetto a Q è uguale a 0 perché QP è parallelo alla quantità di moto la particella si muove di moto rettilineo non mica necessariamente uniforme diciamo si muove di moto rettilineo uno dice vedi che se va diritta non ha momento angolare beh aspetta possiamo fare questa cosa prendiamo ancora la stessa particella di prima lo stesso punto di prima sta muovendosi quindi così di moto rettilineo però adesso il polo Q lo prendiamo qui che non passa per la retta di cammino di traiettoria del punto P ecco che in questo caso succede che pur essendo il punto ancora animato di moto rettilineo L momento angolare del punto rispetto a Q non è il vettore nullo è quello che vale perché QP e la quantità di moto non sono paralleli quindi anche se si muove di moto rettilineo la massa possiede un momento angolare quindi se confrontate i due disegni capite bene in che senso ci deve essere qualcosa che gira chi è la persona immaginaria che sta nel polo Q lei deve girare per guardare dove sta andando la particella se questa ha momento angolare rispetto a Q qui la testa della persona che guarda la particella non deve ruotare per inseguire invece la particella ultima cosa sul momento angolare e poi la mia definizione vedete niente di drammatico l'ho definita è che le dimensioni di questa grandezza sono quelle del prodotto di una lunghezza e quindi di r e di pi della quantità di moto e dunque nel abbiamo una quantità di moto massa per velocità quindi per lunghezza tempo alla meno 1 e ancora per una lunghezza quindi abbiamo un ml di 2 latino 1 e nel sistema internazionale si misurerà in kg per m² al secondo che non si chiamano in nessun altro modo si chiamano m per kg al secondo della meno 1 arrivati a questo punto vi annoio per qualche minuto ancora con un semplice teoremino che però ha conseguenze molto ampie e questo teoremino si chiama teorema del momento angolare ovviamente che altro e serve a spiegare il motivo dei nostri sforzi in aver introdotto un potere rotazionale momento di una forza e un momento angolare come questo strano oggetto che misura un pochino dove sta andando un punto rispetto a una retta d'azione allora situazione è questa prendiamo un punto arteriale che va a spasso nel in un sistema di riferimento inerziale con una certa sua storia avventura cinematica e ha un questo punto una quantità di moto quindi tangente alla traiettoria e anche simultaneamente soggetto a una forza f la forza f che è quella che farà variare questa quantità di moto non sappiamo come messa se non che deve puntare verso il centro della curvatura ovviamente ma poi potrebbe essere frenante o accelerante non lo sappiamo e misuriamo la posizione del del punto p rispetto all'origine con un vettore op ma poi introduciamo anche un polo q che è un altro punto che individua rispetto al punto p un vettore qp e la posizione del punto del polo q rispetto a o è oq ora guardate cosa possiamo scrivere sono più conti e chiacchiere che non sono troppo difficili allora scriviamo il momento angolare rispetto al polo q l'ho appena definito è qp è qp esterno a p piccolo non uso troppo colori perché insomma dopo poi adesso introduco anche però il momento della forza f rispetto al polo q e per definizione questa è ancora qp però adesso esterno a f facciamo adesso questo gioco ci calcoliamo la variazione temporale cioè la derivata rispetto al tempo del momento angolare lq momento angolare della particella rispetto al polo allora dobbiamo fare la derivata rispetto al tempo del prodotto esterno qp per p piccola quindi questo applicando la regola della derivata del prodotto la derivata del vettore qp rispetto al tempo per esternamente a p lasciato stare più qp lasciato stare esterno a dp piccolo su dt prima di proseguire vi faccio notare faccio notare che vale una semplice relazione vettoriale il vettore appunto qp che è quello che mi dice dove è il punto rispetto al polo si ottiene anche sottraendo dal vettore op dove è il punto nel sistema di riferimento inerziale il vettore oq che mi dice dov'è il polo nel sistema di riferimento inerziale siccome io devo calcolare la derivata di qp rispetto al tempo questo implica che devo calcolare dqp su dt che altro non è che dop su dt meno d oq su dt che indico con dop su dt è la velocità rispetto al polo fisso del punto p e d oq è la velocità del punto q ora questo implica che inserendo questo risultato qui posso scrivere che dlq su dt è uguale a vp meno vq esterno alla quantità di moto più qp esterno a dp su dt osserviamo che c'è una parte che si annulla subito in questo in questo risultato quale beh ricordo che p è m per la velocità del punto mvp perché è la quantità di moto del punto materiale misurata rispetto al polo o quindi quando faccio adesso il prodotto esterno di vp per p esso si annulla perché sto facendo il prodotto esterno di due vettori paralleli quindi questo pezzo il vp non c'è in più faccio notare che dp su dt per la seconda legge di newton è proprio la forza f che agisce sul punto in definitiva scopro che la mia espressione è data da qp esterna a f meno vq esterno a p piccola allora e abbiamo finito che cos'è qp esterno a f l'abbiamo scritto qua è il momento della forza rispetto al polo q quindi questo è tau q meno vq esterno a p scegliamo adesso anche se questo potrà essere rilasciato ma in questo momento è per arricchire o esprimere in maniera più elegante formalmente questo semplice teorema scegliamo adesso che q il punto q è fermo sia fermo quindi vq è uguale a zero allora il risultato finale di tutto questo nostro conticino è che abbiamo scoperto che se il polo q è fermo la variazione del momento angolare rispetto a questo polo di una massa puntiforme soggetta a una forza f risulta pari proprio al momento rispetto allo stesso polo della forza f ovvero scopriamo il ruolo dinamico rotazionale del momento di una forza come quella grandezza che cambia nel tempo il momento angolare della nostra massa quindi lo potete girare questo modo di dire cos'è il momento angolare quella grandezza dinamica che muta varia nel tempo sotto l'azione di un momento di forza che esisce sulla massa dovete sempre affiancare questa relazione mentalmente e poi spesso anche operativamente con la dp su dt è uguale a f la forza fa variare la quantità di moto o il momento insomma per dire in inglese nel tempo il momento di una forza fa variare il momento della quantità di moto o il momento angolare sono due relazioni che arricchiscono la visione del problema attenzione che quella del momento angolare non è un equazione non è un principio della dinamica è una conseguenza del principio della dinamica basato sulle definizioni che abbiamo dato del momento angolare e del momento di una forza ma nel momento in cui dovremo cercare di raccontare l'effetto rotazionale dinamico di una forza sarà essenziale calcolarne il suo momento per vedere che questo modifica il momento angolare della particella e avremo modo di vedere all'opera in un sacco di contesti questa nostra prima definizione del potere rotazionale delle forze